La costruzione del nuovo depuratore comprensoriale della Val Petronio partirà da Ramaglia, località dell'introterra del Sestilevante, dove sarà posizionata la struttura esterna dell'impianto. La zona dove sarà il cantiere è stata già consegnata a IREN, che presumibilmente a giorni inizierà i lavori. Una fase preliminare in cui ci saranno scavi e sgomberi nell'aria per renderla pronta ad accogliere la costruzione. Sono previste anche analisi sui materiali rimossi per capire dove andranno conferiti e smaltiti. Si stima che questa fase durerà almeno fino alla fine della primavera. Dopo l'estate ci sarà l'inizio degli interventi più impattanti sulla cittadinanza di Sestilevante, ossia quelli sulle tubazioni per raccogliere le acque e portarle al depuratore e per portare le acque pulite poi in mare. Saranno necessari scavi in diversi punti del centro. Per esempio da Portobello ci sarà il rilancio verso la prima stazione di pompaggio che sarà situata tra gli attuali giardini Marieleventre e la copertura del torrente Gromolo, quindi lungo la passeggiata di Sestri. Poi da lì partirà lo scavo in via Fasce, quindi l'Aurelia, fino ad arrivare all'altezza di via Fasce nel mondo dove ci sarà la seconda stazione di pompaggio. Quindi di rilancio verso la località Aramaia, da lì si partirà con una tubazione per arrivare fin qui. Non c'è ancora un cronoprogramma preciso di come si muoveranno questi interventi sul centro. Il Comune ha chiesto a IREN un piano che cerchi di creare meno disagi possibile. Certamente IREN sta elaborando su nostra richiesta i cronoprogrammi che ci consentiranno di armonizzare le attività di scavo che dovrà effettuare in città con le altre attività di lavori. Nel complesso i lavori dovrebbero durare per due anni e mezzo. Il deputatore tratterà le acque reflui di Castiglione, Casarza, Sestri e Moneglia. Quindi è un'opera importante che ci consenterà di trattare finalmente in maniera completa, totale, tutti gli scarichi fognari del comprensorio e poter avere un refluo sostanzialmente pulito, integro, che potrà anche essere nel caso riutilizzato per vari scopi. E quindi questa è un'opera sicuramente invasiva in città, ma sicuramente poi avremo un beneficio in termini ambientali e comprensoriali. I costi dell'impianto sono a carico di IREN, spese che in genere comportano un aumento nelle bollette per gli utenti.